Al prossimo episodio Ho visto i vostri commenti come sempre e abbiamo deciso tutti insieme di farci le coltivazioni Allora, prima di farci le coltivazioni però, siamo obbligati ad andare a prendere un bel po' di legname Quindi, oggi ci andiamo a prendere un po' di legname Mentre la musica di questo fantastico gioco ci accompagna Lì davanti possiamo vedere uno scheletro che stranamente non ci sta colpendo Ma, dato che noi siamo molto curiosi, gli andiamo a rompere subito i coglioni Ciao scheletro! Vieni qua! Oddio, se... Qua ci voglio andare? Secondo me qui c'è la prateria Che ti prende e ti porta via Tutti insieme! Il cane della prateria... Non ho sentito nessuno cantare insieme a me Va bene Quindi, questo ci siamo presi un po' di legna Io continuerei E voi mi dite, ma perché ci stiamo prendendo la legna? Semplicemente perché? Perché così ci facciamo i recinti Voglio fare una cosa molto, molto più ordinata rispetto all'altra volta E da quello che mi ricordo dobbiamo fare i recinti almeno da due Perché se no possono entrare i mob e possono uscire i mob Quindi facciamo così Che poi tra l'altro io voglio fare pure un bel allevamento di maialini già che ci siamo Perché qua per fortuna ne sono spawnati altri E quindi ne dobbiamo approfittare Le pecorelle sarà un po' più difficile Ma tanto appena ce ne abbiamo due poi incominciamo Che poi tra l'altro è vero Mi stavo dimenticando Dobbiamo fare assolutamente il raccolto Perché così possiamo contrattare con i villici Assolutamente Assolutamente Quindi, qui il ferro l'ho fatto E ora vi faccio vedere che cosa ci facciamo Questo lo mettiamo qua E ci facciamo così Con questo ci facciamo il secchio Che sarà importantissimo per noi Sarà davvero importante Quindi, il legno per dire la verità ce l'abbiamo Però facciamo così Guardate, allora Ci craftiamo Un bel po' di stecchini Ce ne facciamo tanti Quindi facciamo così Con questo facciamo così Sbaglio? Vedo maialini che passano tipo Frecce rosse dietro Mi sembra Quindi facciamo così Tac, tac Tac, pic, tuc Strap Stick Tac Facciamo 38 38 Vabbè Io già che ce sto Regà Scusate Facciamo così Questo va così 54 E vai di lì E vai su per giù Ah ragazzi Mi raccomando Oggi andiamoci Tutti quanti a vedere Warhammer Space Marine Che è una serie che a me Fa morire ragazzi È troppo bella Spero che vi piacerà anche a voi Quindi Andiamoci tutti quanti a vedere Space Marine E Dove facciamo L'orticello? Bello, 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 bello Io direi di farlo qua Poi comunque qua Prendiamo la terra Prendiamo la terra E qua riempiamo tutto E ci facciamo anche l'allevamento Quindi Facciamo così Qua togliamo sta roba Vai via Vai via Ti dico Vai via Quindi Puliamo 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 Oggi facciamo i giardinieri Andiamo Olè 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 Comunque Mi fate sapere sotto al video Se adesso Vabbè che poi Minecraft Non è che sia Molto importante Quello che vi sto per dire Più che altro Avete visto sotto i video Di Rise Son of Rome Ci avete fatto caso Che adesso i video Si vedono molto Molto meglio Rispetto a prima Perché per chi non lo sa Io ho una pagina di Facebook Dove praticamente Ho comunicato Che c'è stata Una miglioria Sui video Praticamente Pesano un po' di più Ma adesso sono Di qualità migliore Io odio Quando succede questo Di sporco Ok Con calma Non ci abbassa Comunque questo Non ci abbassa Quindi facciamo così Mettiamo un altro qua E un altro qui Quindi facciamo Tic tac Tic pek fek E poi Strak puk Nes Nes Giusto Giusto Quindi Qua mi serve anche il cancelletto E ci dobbiamo andare a prendere Altro legno Io lo sapevo Però intanto cominciamo A fare i progetti Voi mi avete detto Che un cubo Di acqua Prende Quattro Di coso Quindi io se faccio così Uno Due Tre Quattro All'imite posso fare Anche così Guardate Facciamo uno Due Uno e due Mamma mia Voglio fare Un campo di grano Incredibile Signori Un campo di grano Incredibile Signori Quindi Uno Due Bucio Fai Uno Due Qua Bucio Quindi c'ho Uno Due Tre Uno Due Tre Oh Signori Ma adesso No Adesso aspettate un attimo Perché Se questa cosa funziona Io vi amo Se questa cosa funziona Ma son sicuro che funziona Perché se me l'avete detto Funziona Io di voi mi fido tantissimo Quindi facciamo Olè Ecco Ci mettiamo un po' di tempo E' a fare avanti e indietro Quindi Olè Olà E vai Qua ci sarebbe bene Una canzone Quella Anzi va Ammetto va Ok Siamo arrivati qua Ci siamo arrivati Allora Dov'è la mia Zappina Zappa Amica Zappa Quindi aspettate Prima di fare la zappa Io metto Vorrei mettere Allora Voi mi avete detto Che qua Io posso metterci Anche Allì Vabbè Ok D'accordo Non ci sono problemi Quindi noi facciamo così E intanto gli angoli li metto Perché ce li abbiamo Quindi facciamo così Facciamo così Vai Perfetto Perfetto Perché Ovviamente Per chi non lo sa Ma questo Ormai lo sappiamo tutti Un buon campo Per essere E vabbè Un buon campo Per essere ben coltivato Ci vuole tanto amore Io ho il cuore Io ho il cuore Ho il cuore No non me lo fa Vabbè Ok E bisogna metterci Anche le torce Ok Quindi Una due Tre Quattro Perfetto Perfetto Io qua farei Tipo un'altra cosa Fighissima Del tipo Del tipo Non lo so Farei Tipo Allora stiamo Qua E qua Non lo so Mi è venuta Così Non lo so Ditemi se vi piace Se vi fa cagare Non lo so Poi al limite questo si può cambiare Ma secondo me è figa come cosa Quindi Facciamo così Tra l'altro dovrei anche mangiare E poi E Tutti insieme No Ma Fafferra Non fanno più le pale di una volta È proprio vero Le pale di una volta Non le fanno più Maledizione Allora Andiamo qua E ci facciamo La pala In fibra De pietra La pala in fibra de pietra Già che ci sto Io faccio così Faccio così Faccio così Faccio così Oh Vedete guardate che organizzazione Che c'è il vostro shishokamer89 Guardate che roba Ragazzi mi raccomando condividete i miei video Mi raccomando ragazzi Mi raccomando così mi date una mano a crescere E andiamo così E andiamo così Allora già che ci sto Aspettate Facciamo che io No ho corso Non si toglie Ok basta che non ci salto sopra è vero Facciamo Così Vai Tec Pic Tuk E vabbè Ma mi dite nei commenti se succede anche a voi questo Perché io l'odio quando mi succede BASSA Ma che Ti odio quando fai così Te lo dico eh Ti odio Vai via Ok Vieni qua Ah non mi son fatto il cancelletto Vabbè Io non capisco perché ci sono i maiali sugli alberi Io questa è una cosa che devo capire Va bene Va bene Va bene Ah Poi una cosa Nei commenti Gentilmente Mi dite come si fanno le corde Mi sembra che ci vuole lo slime Se non dico una cacchiata Ci vuole lo slime Poi perché qua ho messo due di questi No 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 Facciamo così Che è molto più figo Facciamo Uno Due Uno e due Oh è perfetto Sta al centro È bellissimo Ok Facciamo così Quindi Puff Puff Oh signori E che cacchio Ma ditemelo prima Ok Sono praticamente impazzito Devo andarmi Ok ma che Che palle Ci si fa notte Ma com'è possibile Ma io non lo so Neanche il tempo di coltivare Ma guardate Allora Il cancelletto mi sembra che si faceva così Tanto non ci abbeccherò mai al primo E invece col cacchio E invece ci ho preso Malfitati Ti avete dei malfitati Io ve lo dico Vai a dormire Su Che ci dobbiamo fare Il nostro campo Dai Che ci manca poco Allora Qui devo prendermi I miei semini E che No Intanto facciamo così Intanto facciamo così Questo io Lo metterei Completamente Completamente Per il grano Assolutamente sì Perché il nostro obiettivo Io lascio pure queste cose verdi È fighissimo Mi fate sapere se vi piace A me piace tantissimo Quindi questo Ok C'è qualcosa Che non va Ok Forse devo fare Non ho capito Cioè se io faccio Scusate eh Questo non è un cubetto Ah No perché No Sabe uno dice Ma sto diventato scemo Scusi cancelletto eh Va bene Quindi mettiamoci Questo E poi Mi sa che non c'è pasta No dobbiamo andare a trovarne altro Assolutamente Guardate quanto cacchio di grano ci sta qua dentro Incredibile Qua c'è uno Due Tre Sì sì è giustissimo È giustissimo Al limite Al limite Potremmo anche metterci le carote Perché guardate quanta roba abbiamo Vai Vai Guarda Guarda Oggi mi sento Jekychan raga Oggi mi sento Jekychan Oggi Ditemi in chat Eh Nessi in chat Ditemi nei commenti Quanto assomiglia Jekychan da uno a dieci Ditemelo Ditemelo Vai così Ciao maialino Vabbè sono impazzito oggi Sono impazzito Lasciate fa Vai così Vai così Vai Vai Non lo sai I semini Non te li prenderai Vai così Vai Eh ma non droppano molti semi Eh Cioè io voglio dire una cosa Non droppate molti semi A me Sta cosa mi dà A quanto fastidio Guarda quanta erba Guarda quanta erba Vieni vieni Guarda quanta erba Ma qua giardiniere Non ci passa Oh il giardiniere Willy Ma che fa Dai Perfetto Ora ritorniamo Verso il dietro Voi starete sentendo Un casino pazzesco Molto probabilmente Nelle cuffie Ma va bene così Vai Vai Ok Ok Ne ho altri 27 28 Penso che abbastino Penso che abbastino Quindi ritorniamocene A casa Rompendo e distruggendo Tutto quanto Quello che possiamo trovare In avanti Vai così Vai così Allè 29 30 31 32 Vai Penso che comunque Non riusciremo a coprire tutto Perché se ne ho usati 40 Prima Non credo che riusciremo a coprire tutto Assolutamente Quindi Apriamo Facciamo così Facciamo così Vabbè Vabbè Poi se non copriamo tutto Pazienza Cioè nel senso Non è quello il problema Facciamo così Che bello Ne ho piazzato uno E subito stava crescendo Vai così Eh va bene Ne manca giusto un peletto Ma va bene Ma va bene Va bene così Allora signori Fatemi sapere che cosa ne pensate Di questo giardino Secondo me È stupendo Secondo me È stupendo Poi qui possiamo pure Aggiustare e fare il giardino Di carote E tutto il resto Che cosa vogliamo fare La prossima puntata Anzi no Scusate Ve lo dico già da subito La prossima puntata Fatemi sapere Se siete d'accordo Eh Metteremo L'ultimi pezzetti Di grano qua E ci faremo L'allevamento Di maialini Assolutamente Ragazzi Il video di oggi Può finire qui Se il video vi è piaciuto Oh mio dio Sto morendo di fame Ma ditemelo Ragazzi Noi possiamo anche Comunicare telepaticamente Tipo I Saiyan No? Ci avete presente? Quindi se voi mi dite Ciccio E vi sforzate Ciccio Stai venendo da mangiare Io lo sento C'è un grande C'è una grande forza In tutti noi Quindi Dopo tutte ste cazzate Il video di oggi Può finire qui Pollice in su Commentate Condividete A prossimo appuntamento Di posto di Ciccio Camera 89 Mi raccomando Andatevi a vedere What a Merspace Marine Ciao E vabbè Oh 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 Come lo chiamiamo Martel Martel Sega Andiamo Andiamo dal retro Mamma mia Sto già così Secondo me Oh Vieni qua Mamma mia Ci avete fatto caso Che comunque io Gioco No Gioco No 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 No